Avete ben presente Romeo e Giulietta? Sì, di William Shakespeare. Ecco, immaginatelo con un titolo di sesso, violenza, sangue, splatter e tanta malsana follia. Tutto questo sapete che cos'è? Semplice. Tromeo and Giulietta. Finalmente ragazzi, finalmente Tromeo and Giulietta, edito da Digit Movies in Blu-ray. Ragazzi, finalmente dico perché, perché è un titolo incredibile, affascinante. Un film del 1996, diretto da Lloyd Kaufman e dal non citato, eh sì, ragazzi, non accreditato, James Gunn, ragazzi, James Gunn. Sì, proprio quello dei Guardiani della Galassia. Immaginate tutti gli alochi originali della tragedia di William Shakespeare. Esatto. Conditeli con cose assurde di scritto, ovviamente, per accenciatura e buttateci in mezzo qualsiasi squallore inerente a quel contemporaneo follo degli anni 90. In questo caso non sono qui per farvi tutto il giro di drama, perché la drama è quella originale. Però condita in un ambiente contemporaneo, come ho detto inizialmente. Quindi scoprite questo prodotto, perché è di un livello incredibile. Sì, fa parte del cinema trash e voi direte, ma che c'entra James Gunn con il trash? C'entra e come, perché qui, anche se non accreditato, ha dato vita a qualcosa di assurdo, iconico per il genere. Ragazzi, questo è un cult movie assoluto. Ovviamente il prodotto è totalmente in inglese, sotto il titolo di italiano. È composto da ben due dischi, questo cofanetto, ragazzi. Ben due dischi. Il Bravery, il film, con vari extra. E un disco con tutti i nuovi extra inediti, ragazzi, che faranno la gula per tutti gli amanti della drama. Perché questo, probabilmente, è il riferimento numero uno di questa casa. Come definire Truman e Juliet? Ma, forse è un mischione. Drama, horror, commedia, in puro stile alternativo. Ovvero, proprio, una pellicola molto punk. Ecco, forse punk è l'esatto nome a cui possiamo accostare a questo grandissimo film. Il prodotto è molto stomachevole, verremo in certi momenti. Verremo veramente scene crude, astratte, ma con... Insomma, un film che non lascia interdetti di più. Recuperate questo grandissimo titolo, grazie finalmente alla G-Git Movies. Ci sta regalando cose fantastiche, ragazzi. Fantastiche. E, oh, mi raccomando, fatemi sapere, vai, che il crash sia con voi. Ciao a tutti.